Domenica, in una casa di Via Vico a Muraglia, è suonato il campanello e alla porta c'era Matteo Ricci. Così il primo cittadino ha consegnato i primi voucher per bonus spesa e bonus bambini richiesti da 6.000 famiglie pesaresi. Il sindaco ha fatto da prepista, dopodiché un'enorme rete di volontari di quartiere ha cominciato la consegna porta a porta, quartiere per quartiere, ad ogni abitazione che ha fatto richiesta dei bonus che il comune ha messo a disposizione della cittadinanza dopo aver ricevuto un milione di euro dal governo. Una cifra con cui lo Stato ha riconosciuto Pesaro come una delle città più colpite dalla prima ondata della pandemia per tasso di contagi ed eccessi. Una fitta rete di volontari raggiungerà porta a porta durante tutto l'arco della settimana 1.600 case in cui è stato richiesto il bonus pesa per nuclei familiari in difficoltà economica e 4.700 famiglie che riceveranno invece i buoni da 100 euro complessivi per i propri figli da 0 a 14 anni. Abbiamo deciso di dare questo milione di euro tutto ai cittadini. Abbiamo scelto tre fasce, con Sara Mengucci abbiamo individuato le famiglie più in difficoltà che hanno ricevuto i buoni spesa, sono state circa 1.700 le famiglie che riceveranno i buoni spesa, di circa 230-240 euro di media a famiglia e quindi abbiamo fatto una grande operazione sociale. Poi con Giuliana Ceccarelli abbiamo cercato di dare una mano ai bambini e sono 4.700 i bambini che stanno ricevendo il buono crescita. 100 euro a bambino per spendere in tutte le cose che servono per la crescita dei bambini, dalle spese dell'istruzione ai libri, quaderni, computer e il tempo libero per la crescita sportiva, musicale o culturale. Quindi una grande operazione a sostegno delle famiglie. Poi con Francesca Frenquellucci abbiamo deciso di orientare almeno 100.000 euro sulle imprese che sono proprio a terra, quelle piccole imprese che hanno avuto un calo del fatturato maggiore dell'85%. Una grande operazione sociale, una grande operazione per la crescita e una grande operazione fatta con grande velocità perché dopo 20 giorni con l'autocertificazione già siamo oggi a distribuirlo, a distribuirli tutti e lo facciamo grazie a una grande rete di volontari coordinata da Mila della Dora che in queste ore sta andando in tutti i quartieri famiglia per famiglia a consegnare questi buoni.